buongiorno ragazzi allora vi do due dritte su corte facciamo rumore facciamo rumore io sono con le brache corte è arrivato anche brando siamo qui in giardino siamo in giardino lei è comoda stravacata, messa bene, guardate che bene visto che non stiamo lavorando ma con la testa lavoriamo perché siamo pronti alla riapertura sì speriamo al più presto vabbè comunque siamo pronti siamo ora pronti noi siamo sempre pronti allora io intanto sto dando delle mani di vernice quindi quando sarà finito tutto questo posso venire a casa e darvi anche una verniciata che sono diventato bravissimo sì sì io ho impastato la pizza ecco stasera mangiamo pizza quindi a lei carboidrati, forno e via allora raccontiamo che cosa? le pere cuciniamo le pere perché i nostri amici che ci seguono che seguono la pagina di mamma franca hanno una richiesta visto che hanno mangiato la pera cotta nel vino rosso sì nella pera mosè che è il nostro dolce tradizionale sì sì allora spieghiamo come sono le pere bene innanzitutto che pere utilizzi? nel periodo invernale c'è la martinsek che è una pera piccolina leggermente acida ma va bene per fare questo tipo di lavoro ricordate quando parlavamo del carciofo abbiamo parlato dei carciofi ok quando toccate il gambo del carciofo e poi vi leccate la mano non è che dovete farlo però se vi capita è leggermente amaro è tannico quel tannico lo trovate anche nelle pere martinsek perché sono pere eh sì che quando quando ci dai una morsicata che sono molto dure come diciamo noi a Liguria redene redene sì e vanno bene per cuocere se non ci sono le martinsek noi adoperiamo le madernassa che anche quella è una pera piuttosto sul rotondo mentre invece l'altra è proprio la classica pera allora si prende la pera la puliamo la sbucciamo la mettiamo in una pentola il picciuolo verso l'alto lo lasciamo quindi te pulisci leviamo il culetto ah ecco con uno spelucchino che sono quei coltelli a punta dei cuochi o ad uncino o dritti attenzione a non farvi male togliamo il culetto come si chiama sarebbe poi il fiore si mette nella pentola poi ci mettiamo allora in una pentola diciamo di 20 centimetri ci possono stare benissimo a bordo medio alto sì ci possono stare benissimo 8-9 pere martinsek 8 senz'altro quindi poi le riempiamo di vino rosso e mettiamo praticamente 4-5 cucchiai di zucchero poi si fanno bollire con o senza coperchio? col coperchio col coperchio però fate attenzione perché quando bolle il vino potrebbe uscire fa un po' di spuma fa un po' di schiuma quindi regolate il fuoco regolate il fuoco una volta che sono cotte le lasciate raffreddare poi le mettete in un contenitore e sono pronte per fare la crema Mosè che poi vi diremo la ricetta adesso io vi saluto però queste pere cotte qui le potete usare anche mangiate così con un po' di gelato se avete qualche gelataio che fa una buona crema vaniglia è l'ideale anche con la panna poi qui dipende noi siamo molto puliti nel senso che nella cottura non utilizziamo spezie, chiodi di garofano eccetera però nulla vi vieta di mettere il chiodo di garofano il chiodo di garofano alla piemontese sì, in Piemonte lo mettono il chiodo di garofano, siamo noi che non lo mettiamo dai, ciao, grazie ciao ciao